ed eccoci qua. Ciao a tutti. Come va? Spero tutto bene. L'altro ieri sono stato ospite a casa di amici e ho trovato qualcosa di allucinante. Sì, allucinante. Si tratta di un pappagallo truzzo, nel senso che muove la testa facendo tunz tunz tunz. Credetemi se è stato veramente divertente. Nel video che vedrete ve ne renderete conto. Attenzione. Tengo a specificare che, purtroppo, il video del pappagallo apparirà rovesciato. Eppure, quando ho ripreso il video, sembrava riprodotto nell'angolatura giusta. Mi scuso in anticipo per il disagio. Bene. Ora, godi popolo, è tempo di vedere il pappagallo truzzo. Pagallo, dici sì. Bravo. Pagallo, dici sì. Dai. Pagallo. Pagallo, dici sì. Bravo. Bene. Così si conclude il video del pappagallo. Mi scuso anche per la breve durata. Il fatto è che, stavo ridendo al punto tale da richiedere l'uso di un respiratore artificiale, per cui ho interrotto il video alla breve durata di un minuto e mezzo circa. Come nel video precedente vi ripropongo la promessa per i mille iscritti, per cui, se volete, mandatemi le vostre domande tramite messaggio privato, ed io risponderò nel video di dedica. Ora vi saluto. Ciao a tutti e, a presto.